Preghiere dall'invisibile, attraverso Marco, a cura di Vubi, frate Bernardo. Che io dimostri, che io riveli, senza vergogna, l'insufficienza che mi manifesta in questo eterno istante da me vissuto, quale separato dagli altri, nel piano fisico, in mezzo ai miei fratelli, che io manifesti questa insufficienza, quale è realmente, e non mi imponga ciò che non è mio, che non rubi i frutti dagli alberi di altri, che non rubi le perle per metterle alla mia collana, perché le perle appartengono ad altri e non a me, che sono povero. Queste perle sono le parole di insegnamento che ogni fratello mi dona quando mi ammonisce, quando mi accarezza, quando mi ama. Tuttavia fa che io non faccia altrettanto, rompendo così la catena delle forme pensiero derivanti da questa limitazione. Fa che impari più che insegnare ad altri, perché nel mio oggi non sono in grado di poterlo fare. Fa tutto questo, Altissimo Signore, se questo è conforme alla Tua volontà, e fa che la mia mente, si uniformi alla mente universale, che la mia coscienza si conformi alla casa, che il mio spirito si conformi alla legge, che il principio che è in me si manifesti nel principio che è in tutto.